La gestione finanziaria 2019 del Comune di Agropoli mostra evidenti dati positivi rispetto agli anni precedenti. L'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi risponde alle accuse del consigliere di minoranza Agostino Abate in merito alle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa sulla nostra emittente riguardanti la gestione dell'esercizio finanziario 2019 del Comune. L'esito dei revisori dei conti sul rendiconto 2019 è favorevole, ha detto l'assessore. La spesa corrente del Comune di Agropoli è diminuita di circa 400 mila euro rispetto al 2018. Il deficit di cassa del Comune, che nel 2017 era di 5 milioni, è stato portato a 3 milioni e tante altre iniziative di vantaggio per i cittadini sono state attivate. Nel corso del 2019 sono diminuiti le spese corrente di circa 400 mila euro rispetto all'esercizio 2018. Siamo rientrati dal nostro deficit di cassa, ossia dalla nostra anticipazione di cui godiamo presso il nostro ente di tesoreria. Siamo passati in questi due anni di amministrazione coppola da una situazione al 31 dicembre 2017 di un deficit di cassa di circa 5 milioni e al 31 dicembre 2019 questo deficit è sceso a circa 3 milioni. Nonostante siamo riusciti a tenere fronte, a far fronte e a pagare i fornitori, anche se è vero con un poco di lentezza, ma siamo riusciti a far fronte e a pagare i fornitori. Abbiamo sempre pagato i dipendenti, abbiamo sempre pagato le rate dei mutui. Il parere dei revisori, tanto decantato, tanto pubblicizzato da parte del Consigliere Abate, conclude con l'esito favorevole. Però non nascondiamo, ma è quello che io ho già anticipato prima, con le raccomandazioni estreme, ma le stesse raccomandazioni le troviamo nel parere del Collegio dei Revisori per l'esercizio 2018, ossia che l'ente invita, il Collegio dei Revisori invita, sprona l'ente a mettere in campo tutte quelle azioni necessarie e indispensabili a far sì che si possano riscuotere i crediti che l'ente vanda e che sono per lo più, almeno per la maggior parte, crediti relativi ai tributi non pagati dai contribuenti e dai cittadini agropolesi. Una sollecitazione che già era presente nell'azione al Consigliere 2018. Noi avevamo messo in campo delle azioni nel supporto in quella che era l'attività di discorsione coattiva dei crediti degli enti locali, allora stiamo aspettando adesso l'esito di questa gara e ci auguriamo che quindi entro fine anno possa effettivamente mettersi in campo questa azione che poi, io dico, questa azione è necessaria per ben due ordini di motivi, perché fa bene al bilancio del Comune, ma per quella questione di equità fiscale di cui, diciamo, sono fiero di vandarmi di cui essere paradino, perché lo dobbiamo, questa azione di recupero, soprattutto nei confronti dei nostri concittadini che regolarmente pagano le tasse, che regolarmente pagano l'Imo, che regolamento pagano l'Atari. Quindi noi dobbiamo, tenuto anche conto, per carità noi non vogliamo essere gli sceriffi, vogliamo tener conto e voglio anche vandarmi che durante questa amministrazione questo assessorato ha anche proposto e è fatto approvare in Consiglio Comunale delle iniziative che vengono incontro ai cittadini che si trovano in difficoltà finanziare. Ricordo fra tutti la rateizzazione, la possibilità di rateizzare i propri debiti, la possibilità di compensarli con eventuali crediti che vandano per prestazioni o per fornitura di servizi o per fornitura di beni nei confronti dell'ente stesso, la possibilità del avvedimento operoso, cosa che poi queste procedure le abbiamo, permettetemi anche di vandarmene un pochettino, di essere motivo di orgoglio per la mia azione, perché sono state poi ufficializzate con l'ultima legge di bilancio 2020, cosa che noi le abbiamo anticipate già due anni fa.